Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Zipi65 e oggi siamo qui con la nostra seconda sfida principale di questo gioco che è l'altopiano isolato. Allora, dopo aver sbloccato la prima sfida principale, dopo aver completato la prima sfida principale noi dobbiamo scendere dalla torre delle origini. Come metteremo piede per terra, verrà a parlarci il vecchio adesso io vi salterò al filmato e ci vediamo dopo. Ok, ecco che ci ha sbloccato la sfida principale all'altopiano isolato, andiamo a vederla subito. Praticamente ci dice che dobbiamo portargli un tesoro e ci darà la parovela per lasciare l'altopiano e niente, praticamente dobbiamo recarci al primo sacrario dopo di che questa sfida si aggiornerà due volte. Praticamente adesso dobbiamo recarci lì, quello lì l'ho già caricato il video sul canale di quel sacrario. Adesso io qua taglio e ci vediamo quando si sbloccherà la prima volta quando si aggiornerà di nuovo questa sfida. Ok, eccoci usciti dal sacrario di Mawona, primo sacrario che incontriamo in questo gioco ed ecco che il nostro vecchio ci raggiungerà dopo il discorso che fa qua, che io vi salto. Ecco che ci dà la sfida aggiornata dell'altopiano isolato. Praticamente ci dice che dobbiamo cercare altri tre sacrari recandoci in cima alla torre là, dobbiamo trovare altre tre sacrari e completarli, dopodiché ci darà la sua parovela. Ok, allora adesso io taglio di nuovo il video, vado a fare gli altri sacrari di cui trovate già i video sul mio canale e poi ci rivediamo qua quando abbiamo completato tutti e quattro i sacrari che vediamo come completare la sfida principale, l'altopiano isolato. Ed eccoci all'uscita del nostro quarto ed ultimo sacrario ecco come al solito ci raggiunge il vecchio, saltiamo il dialogo ed ecco che la nostra sfida viene aggiornata dicendoci di incontrare il vecchio nel punto in cui si intersecano le linee immaginarie che uniscono i sacrari. Allora, praticamente tirando una riga da qui a qui ho sbagliato tasto, praticamente da qui a qui noi praticamente ci dice che dobbiamo andare in questo punto qua che non è nient'altro che dove siamo andati nell'episodio quello in cui abbiamo trovato la tunica antifreddo noi siamo andati lì a prendere l'arco da viandante ok, io direi che ci possiamo direttamente vedere quando siamo arrivati in quel punto ok, eccoci arrivati nel nostro santuario del tempo là vediamo la dea Hylia che brilla di luce propria quella la vedremo dopo praticamente noi abbiamo quattro emblemi del trionfo dandogli lì ci dà o un cuore o un portacuore o un portavigore poi lo vedremo nel dettaglio dopo dunque noi dobbiamo adesso salire sul tetto e tornare nel punto in cui abbiamo trovato l'arco nell'episodio dedicato alla tunica antifreddo e troveremo il vecchio io adesso vi salterò le animazioni e ci vediamo direttamente quando ci dà la completata la sfida principale eccoci qui dopo i vari filmati che ci dà la parabela e ci completa la sfida l'altopiano isolato adesso ci sbloccherà anche due altre sfide cioè la fine di Ganon e alla ricerca di Impa ok, adesso noi l'episodio cioè la sfida l'altopiano isolato l'abbiamo completata però prima di salutarvi volevo farvi vedere come avevamo detto prima il portacuore e il portavigore dobbiamo recarci all'interno andare a interagire con la statua della dea Ailia fare prega lei ci dirà tutte le volte oh Pellegrino vede che ho superato delle prove ottenendone la testimonianza ti concederò il potere vedo che hai meritato almeno quattro emblemi del trionfo in cambio di quattro emblemi del trionfo io ti confererò il potere cui tanto anelli allora io adesso prenderò un portacuore e c'è il motivo praticamente secondo il giro che voglio fare io della storia adesso vi faccio vedere bene dalla mappa allora adesso togliamo anche la spunta tanto non serve adesso abbiamo praticamente completato faremo ancora un paio faremo ancora un paio di episodi per farvi vedere un paio di cose che possono esservi utili all'inizio dell'avventura però abbiamo finito l'alto piano degli origini io scenderei seguendo la storia principale che ci farà andare prima qui poi qui poi qui poi su di qua poi vabbè sbloccherò magari anche questi due qui nel frattempo dovrei praticamente arrivare qua avendo 13 cuori perché mi serviranno poi per sbloccare la spada suprema servono 13 cuori poi ovviamente qualche porta vigore lo lo prenderò perché comunque sia dobbiamo prendere anche dei korogu e per alcuni korogu serve un po' di più del primo cerchio di vigore per quanto riguarda la statua della dia Ailia ci sono in tutte le città poi vedremo assieme magari farò un video alla fine dove farò vedere dove sono tutte le statue e i poteri che possiamo avere sono al massimo tre cerchi di vigore e un cerchio si fa con cinque pezzi se non sbaglio praticamente servono 20 emblemi del triunfo per fare un cerchio praticamente in teoria se non sbaglio e il massimo di cuori che si possono ricevere sono 20 ok dopo questo io direi che possiamo salutarci anche con questa sfida principale abbiamo finito e nel prossimo episodio vabbè farò ancora un paio di episodi qui poi comunque nel prossimo episodio cosa andremo alla ricerca di impa comincieremo a andare a sbloccare questa parte di qui ok io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi è stato utile mi invito a iscrivervi al canale se volete supportare il canale appunto e se volete seguire le serie che sto portando che avevo intenzione di portare più avanti e se volete contattarmi trovate tutti i link dei miei social in descrizione di questo e di tutti gli altri video del mio canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao